Operazione di sequestro effettuata questa mattina dai carabinieri forestali di Pesaro per un immobile situato in via Pantano nel quale erano presenti anche i rifiuti pericolosi. Il sequestro è avvenuto in seguito ad una ispezione effettuata dai militari della stazione carabinieri forestale sulla base di un decreto di ispezione richiesto precedentemente alla competente procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro. È stato accertato che all'interno dell'immobile nelle aree di pertinenza esterne erano depositati ingenti quantitativi di rifiuti di vario genere tra cui speciali pericolosi. Si trattava di fusti contenenti oli esausti, componenti di motori di macchine, batterie di autovetture, calcinacci di cartongesso lasciati in stato di completo degrado ed abbandono. È stata inoltre riscontrata la presenza di materiali fibrosi isolanti, le cui eventuali pericolosità è tuttora in corso di accertamento tramite specifico campionamento successive analisi. A seguito di un accertamento, l'immobile risulta di proprietà dell'azienda ospedaliera Marche Nord, il cui personale dirigente ha assicurato piena collaborazione e una pronta attivazione per la soluzione del caso. Attualmente sulla vicenda è stata configurata attività di gestione di rifiuti non autorizzata, per la quale i militari hanno proceduto al sequestro dell'immobile per l'ipotesi di reato. Contestualmente all'individualizzazione dei responsabili è stata inviata alla competente autorità giudiziaria, specifica comunicazione di reato a carico di ignoti.